No, 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 però noi siamo un bel gruppo e ce la mettiamo tutta e giustamente con le due competizioni facciamo un po' fatica, soprattutto adesso perché siamo un po' contati, però il presidente è una persona abbastanza pragmatica, quindi fortunatamente sa gestire tutto e non è nulla dal caso, quindi per fortuna lui saprà gestire tutti quanti al meglio.